Buongiorno a tutti ragazzi, oggi martedì 2 luglio, giornata di ferie, ce ne siamo venuti in montagna siamo sui monti Riatini, in particolar modo abbiamo toccato alle 9 meno un quarto, adesso 9 meno 10 la prima vetta di oggi, il monte di cambio con i suoi 2081 metri, eccolo qua una croce di velta veramente brutta, oppropriosa, bisogna dire la verità, veramente questa croce di velta è orribile vabbè però una cosa bella, c'è su questa vetta, c'è Marco, una cosa bella, ok è appena arrivato abbiamo questa icona di questa madonnina che almeno rende giustizia alla bellezza di questo paesaggio ecco qua fantastica si fa sempre un sacco di, si fanno sempre un sacco di discussioni su croci, icone, sulla montagna insomma ma alla fine trovare un'icona, una croce, un parallelepipedo, un omino in pietra, un qualcosa insomma che ti accolga fa comunque sempre piacere, almeno questo al sottoscritto allora questa è la prima vetta di oggi, monte di cambio ecco tutto il complesso del terminillo oggi abbiamo l'idea di fare un bel giro, vediamo cosa ne viene fuori e niente, magari ci aggiorniamo più tardi in un prossimo video ciao